ben trovati dalla redazione di cosmopolis news senza neanche accorgerci ne sono passati 12 anni ricordo ancora come fosse ieri la sera del 9 gennaio del 2012 lavorai tutta la notte per l'uscita il mattino seguente del primo numero di cosmopolis in molti anche tra la stretta cerchia di amici e conoscenti mi diede del pazzo far nascere un quotidiano web rendere possibile l'approfondimento e la ricerca delle notizie non sul cartaceo ma attraverso uno strumento online a taranto poi città refrattaria le novità abituata alle restaurazioni più che alle rivoluzioni cosmopolis all'inizio contava quando andava bene su non più di 200 300 lettori al giorno oggi la gamma completa dei nostri prodotti editoriali sfiora i 400 mila contatti giornalieri al quotidiano da alcuni anni si è aggiunto la tv web con un proprio palinsesto con trasmissioni settimanali con interviste a personaggi dalla cifra e prestigio nazionale con ben due edizioni quotidiane del telegiornale a tutto questo va aggiunto il lavoro prezioso compiuto dalla casa editrice per la valorizzazione di un'idea culturale in grado di rendere centrale il sud come soggetto autonomo dotato di pensiero il nostro dodicesimo compleanno non poteva però passare senza un regalo da donare ai nostri lettori e utenti dalla mezzanotte di questa sera sarà online il nuovo cosmopolis nuovo nella grafica nuovo nei commenti nuovo nei contenuti nuovo nella migliore più puntuale valorizzazione dei social media si tratta di un ulteriore investimento realizzato con risorse proprie senza accedere ad alcun contributo pubblico per rendere più forte puntuale al passo con i tempi la nostra offerta giornalistica siamo il quotidiano più letto a taranto e tra i più seguiti in puglia la nostra idea di un giornalismo libero architrave di una società autenticamente plurale democratica senza padroni e padrini rappresenta la bussola la quale guardare per poter navigare in mare aperto la libertà è un dovere prima che un diritto buon compleanno cosmopolis il settore della pesca è in crisi a causa dell'aumento della temperatura 2,65 gradi in più rispetto alla media storica valori mai registrati prima anche a dicembre c'è l'invasione di cormorani in puglia gli uccelli che si cibano di pesce sono infatti più che triplicati a causa della tropicalizzazione del clima determinando un grave impatto economico per i pescatori e per gli allevamenti di pesce in mare aperto e quanto denuncia col diretti puglia riferendosi alle miti condizioni climatiche rilevate a dicembre responsabili di far proliferare la fauna selvatica la presenza sempre più invasiva dei cormorani aggiunge col diretti puglia viene segnalata dai pescatori sugli oltre 400 chilometri di costa della regione tra questi la costa di taranto covid il bollettino diramato dalla regione l'8 gennaio segnala in puglia 1136 nuovi positivi 4 decessi sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati processati 7792 test nel tarantino si registrano 146 nuovi casi delle 18.767 persone attualmente positive covid 258 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva condividiamo la linea espressa dal sindaco rinaldo meluce dal presidente di confindustria salvatore toma sulla vicenda che riguarda le 46 aziende dell'indotto ex silva che hanno contestato lo sciopero proclamato dalle sigle sindacali dei metal meccanici è netto il giudizio di antonio surgo responsabile delle relazioni industriali per taranto brindisi e leccio e del mess il movimento socialista europeo sulla vicenda che ha registrato una posizione autonoma espressa ad alcune aziende dell'appalto ci piacerebbe sapere se queste aziende che fremmono per rientrare nel circuito produttivo in calza surgo sono in possesso del certificato antimafia necessario per operare all'interno dello stabilimento siderurgico come stabilito da un apposito protocollo sancito in prefettura ha fatto bene il sindaco a rispedire al mittente gli auguri di natale di accedere d'italia asserisce il responsabile del mess la città è stanca di essere presa a schiaffi contestiamo il decreto legge del governo prosegue ma è più che necessario che con i 680 milioni stanziati con il dl si avvii subito la ricapitalizzazione il pronto soccorso di taranto e le sue criticità al centro della denuncia della fialsa nei giorni scorsi si sono ripetuti episodi di aggressione addirittura con l'uso di un coltello afferma il segretario generale emiliano messina e solo grazie al tempestivo intervento del personale di vigilanza e delle forze dell'ordine presenti in loco si è evitata la tragedia secondo il sindacato la situazione sarebbe al limite personale allo stremo delle forze carenza di medici specialisti e assenza di modelli organizzativi per gestire i codici a bassa complessità assistenziale la fialse dunque ha chiesto al presidente della terza commissione sanità mauro vizzino un'audizione sul tema rigettiamo conclude messina ogni ipotesi di chiusura del pronto soccorso nei vari presidi della provincia di taranto finisce 1 a 0 la sfida tra la capolista cadanzaro ed il taranto di ezio capuano vittoria striminzita almeno nel risultato quella della prima della classe nella quale a decidere un dubbio calcio di rigore trasformato da iemmello dopo appena sei minuti di gioco per la prima del 2023 il tecnico di pesco pagano conferma il consueto 3 5 2 nel quale però manetta finisce fuori dall'undici titolare il luogo di formiconi in mediana spazio a provenzano mentre davanti solo panca per rossetti con guida e tommasini a comporre il tandem con il quale i rosso blu si presentano al ceravolo servono appena quattro giri di lancetta ai calabresi per riuscire a trovare l'episodio che sblocca la contesa merito di biasci che viene steso nel cuore dell'area di rigore da un'uscita bassa di vannucchi per il direttore di gara l'intervento è sufficientemente duro da poter concedere la massima punizione della battuta si incarica iemmello che dagli undici metri fredda l'estremo difensore nei restanti 84 minuti il catanzaro legittima il successo con il taranto che prova e riesce a chiudere gli spazi a tutte le manovre calabresi il punteggio non varia il catanzaro allunga in classifica basta un guizzo di andrea saraniti al casarano per liquidare la pratica martina i biancazzurri giocano bene reclamano per un episodio che avrebbe potuto portare alla concessione di un calcio di rigore in apertura di ripresa costantino sceglie 4 3 3 mentre mister pizzuli rischiera un 4 4 2 più abbottonato la prima parte di gara scivola senza particolari sussulti con i padroni di casa che si affacciano in avanti al ventunesimo con bocchetti senza fortuna mentre il martina ci prova tre minuti più tardi con di ang che di testa mette su fondo al trentatresimo serpi avanti ortisi mastica un pallone nel cuore dell'area ma innesca saraniti che è il più lesto di tutti a mettere dentro la sfera che vale l'uno a zero e che manda le due squadre a riposo nella ripresa ancore soci partono con l'acceleratore pigiato e subito alzano la voce per un presunto fallo di mani in area su cross di cerutti ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore al sessantanovesimo costantino manda nell'arena citro e cipolletta il martina non si arrende ed inserisce petitti che prende il posto di cerutti il risultato però non cambia con il casarano che amministra il martina che esce sconfitto a testa altissima la gioiella prisma taranto torna a mani vuote dall'arena contro il vero volo in monza i rosso blu escono sconfitti per 3-1 in una partita ad altissimo livello agonistico e durata oltre due ore e mezza di gioco la compagine allenata da coach di pinto spreca tanto e getta le ortiche una ghiotto opportunità per tornare almeno con un punto dalla trasferta lombarda dopo aver disputato una buona prova sul taraflex dell'arena di monza il bel gioco non paga ancora una volta dagli sforzi dell'osso blu che si fanno scavalcare in classifica dalla chioene padova vincente per 3-2 sulla top vola cisterna dopo un primo set combattuto monza si porta in vantaggio per 25 a 23 la reazione degli ionici non si fa tendere con taranto che pareggia i conti per 22 a 25 nel terzo parziale i bianzioni riescono a trovare il guizzo vincente ai vantaggi con due esiti da di schiba per il 27 a 25 nel quarto set taranto dilapida un vantaggio di 6 punti si fa guantare dai lombardi e non concretizza tre palle set il vero volley prende fiducia e con mare chiude la contesa per 30-28 conquistano 3 punti d'oro adesso la gioiella prisma taranto deve necessariamente far tesoro degli errori commessi e cercare il cambio di passo già sabato prossimo al pala mazzola contro la wittiu verona ci saranno in palio punti pesantissimi per la salvezza la prima trasferta del nuovo anno è amara per il cussionico basket taranto la squadra di coccioliva per il 2023 con una sconfitta maturata essenzialmente nell'ultimo periodo di gioco contro la luis roma i rosso blu vengono battuti per 76 65 nel match valido per la quattordicesima giornata il campionato di serie b girone d ai tarantini non bastano i 15 punti di cena e 14 messi a segno dal ritrovato capitano conte per evitare il capone alla capitale i razziali grazie a un break di 24 17 nel momento clou del match interrompono il poker dei successi dei cussini nel prossimo weekend taranto chiuderà il girono d'andata al tour sport contro la bpc virtus cassino in un altro scontro diretto importantissimo in chiave playoff dalla redazione cosmopolis news è tutto al prossimo notiziario